Compie 100 anni l'autostrada milano-varese, la prima costruita a livello mondiale fortemente voluta dall'ingegnere, imprenditore e costruttore milanese Pietro Puricelli. Lo speciale compleanno è stato festeggiato con una serie di iniziative aperte, organizzate nelle aree di servizio Villoresi Ovest e Brughiera Est, dagli Automobile Club di Milano e di Varese, con autostrade per l'Italia e Autogrill. La Otto Milano-Varese è oggi un asset strategico della rete autostradale italiana e uno dei principali collegamenti lombardi verso nord, con una media di 120.000 veicoli al giorno che possono raggiungere punte di 150.000. Geronimo Larussa, presidente dell'Automobile Club di Milano. Una bellissima mattinata per celebrare 100 anni dell'autostrada più antica al mondo. Qua si ebbe una grande visione, oggi ancora confermata la prima autostrada in Italia a 5 corsie, sinonimo di grande sviluppo e questo territorio deve tanto a questa infrastruttura che l'Automobile Club di Milano sostenne fin dall'inizio, 100 anni fa. Quindi buon compleanno alla madre di tutte le autostrade. Per i 100 anni dell'autostrada sono stati svelati due totem commemorativi realizzati dall'artista Lorenzo Martinoli, dedicati alla storia della Milano-Varese nonché ai temi della mobilità sostenibile della sicurezza stradale. Giuseppe Redaelli, presidente Automobile Club Varese. Le cinque nastri che salgono verso il cielo rappresentano le corsie dell'autostrada partite dalla prima del 1924 arrivando alla quinta di oggi. Passano attraverso quei tre cerchi che abbiamo voluto immaginare un po' come un ordine cosmico, come un'apertura verso il mondo e questi nastri lanciati verso l'alto, verso l'infinito vogliono significare questo territorio aperto al mondo e collegato grazie alla genialità di Puricelli.